Con una ordinanza il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha emesso il divieto assoluto di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi altro materiale esplodente, benché di libera vendita sul territorio comunale dal 30 dicembre sino al 6 gennaio in luogo pubblico e in luogo privato. La violazione dell'ordinanza prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.